Angelo è un cittadino che da anni si batte per la legalità. Ha denunciato più volte le scorribande di giovanissime baby gang che quasi ogni sera prendono di mira questa zona del quartiere Commenda di Brindisi danneggiando tutto quello che gli capita sottotiro. Denunce che gli sono costate un'auto e una moto presumibilmente distrutte da chi sta provando a tappargli la bocca. La verità non è stato il primo. Avevo una moto parcheggiata qui sotto casa, hanno individuato che la moto era di mia proprietà e hanno cominciato a distruggermi. L'hanno praticamente distrutta, l'ho dovuta ricoverare in un garage e poi purtroppo a distanza di mesi hanno individuato la macchina e si sono vendicati sulla macchina. Questo è uno degli obiettivi preferiti dai vandali. È un armadietto dell'Enel, ormai completamente distrutto. È stato riparato cinque volte negli ultimi due mesi e puntualmente poi distrutto. Fortunatamente persone per bene a Brindisi ce ne sono tante e sono la stragrande maggioranza ancora di persone per bene in questa città ma devono sentirsi tutelate e protette dalle forze dell'ordine. Sempre in questa zona, nei giorni scorsi, vi avevamo mostrato come era stato ridotto il Parco di Giulio, adiacente a questa strada, uno dei luoghi più belli della città, da anni però in preda a baby criminali. E allora ci chiediamo ancora una volta, possibile che non si riesca davvero a fare nulla? Lei si sta esponendo tanto in questo periodo. Non ha paura? Guardi, certo che ho paura, perché anch'io sono padre di famiglia e ho paura anch'io, però non è possibile voltarsi dall'altra parte quando si vedono gli sforzi per migliorare questa città e che vengono manificati da un gruppo di ragazzini. Qua è un gruppo di ragazzini dove il più grande non ha più di 18 anni. Grazie a tutti.